Ciao, benvenuto o benvenute nel video di oggi. Cosa devi fare per prepararti alla sessione d'esami estiva? La cosa importante che devi considerare è che questa sessione è particolarmente utile per preparare più materie perché hai più tempo a disposizione all'inizio, quindi molto prima della sessione stessa. Infatti, conclusasi la sessione invernale, quindi quella che ti vede impegnato nel mese di dicembre, gennaio e metà febbraio circa, hai poi l'altra metà di febbraio e il mese di marzo, aprile e maggio in cui puoi preparare le materie in due modi contemporaneamente. Prima di tutto, seguendo le lezioni. Infatti è molto importante, a prescindere dalla sessione per cui devi prepararti, sempre seguire. È un argomento che abbiamo trattato in altri video perché è importante riuscire ad entrare nell'ottica del docente, non solo a farsi conoscere, che abbiamo scoperto essere molto importante per il principio della familiarità, per cui più ti fai conoscere dal docente è maggiore la probabilità che il docente, con quel minimo di confidenza che si crea, possa aiutarti durante l'esame, non tanto magari aumentando il voto, ma cercando di venirti incontro. E dall'altro punto di vista, quando ti trovi a studiare attraverso l'ausilio delle spiegazioni, entri direttamente nell'ottica, quindi nella dinamica, di prepararti in funzione di quella che è la richiesta esatta del docente. Quindi quando il docente spiega, enfatizza più alcuni argomenti rispetto ad altri e quindi devi essere in grado di focalizzarti su questi e poi attraverso lo studio individuale con il testo o altro materiale che ti è stato fornito, puoi riferirti a questo e quindi migliorare nella completezza della preparazione della materia. Quindi devi assolutamente sfruttare questo periodo in entrambi i modi, seguendo le lezioni e studiando a casa, e soprattutto puoi fare una cosa molto utile. Siccome non sei a ridosso degli esami stessi, puoi spalmare nel tempo lo sforzo che dovrai andare a fare. Quindi se normalmente, in procinto di fare l'esame, ti trovi a studiare 20, 25, 30, anche più pagine nello stesso giorno, siccome hai 3 o 4 mesi in cui puoi dedicarti a studiare la materia con più calma, ti basterà fare uno sforzo anche di solo 10 o 15 pagine al giorno. Questo è fondamentale perché ti mette nella condizione di poter sfruttare questo tempo e dilazionare lo sforzo. E questo ti permette di non rinunciare a tante altre cose che vuoi fare durante il periodo, a parte studiare. Quindi se hai dello sport, dei passatempi, oppure degli hobby, qualunque cosa tu voglia fare che non è strettamente legata allo studio universitario, puoi tranquillamente farla, senza rinunciare allo studio, studiando il giusto senza eccessi inutili per questo periodo, perché ti stai preparando quindi all'esame, e quindi ti troverai inoltre a non rinunciare a nulla e a trovarti, quando poi dovrai fare l'esame, già con molto lavoro che hai portato avanti nel tempo. Quindi anche quando ti troverai al ridosso della fase in cui sei proprio a qualche giorno dall'esame, comunque, siccome già il lavoro, o comunque la maggior parte del lavoro, lo hai già fatto, anche durante l'esame lo sforzo rimarrà sottile o comunque qualcosa che puoi gestire in modo molto semplice o comunque semplificato, perché il lavoro lo hai già fatto. E questo è importante e ti aiuta a evitare che, avendo tutto questo tempo a disposizione, pensi che non è mai necessario sforzarsi perché hai tempo e quindi adotti un po' l'ottica che, siccome hai tempo, ti dedicherai allo studio in un altro momento. In realtà questo non ti aiuta, da un lato, perché devi sfruttare questo vantaggio, che hai, in primo luogo per studiare meno ogni giorno e più dilazionato nel tempo, l'abbiamo già visto, ma anche perché devi sfruttare questo momento o perché hai materie da recuperare, quindi puoi preparare ad esempio una o due materie in più sempre sfruttando questo periodo che per le altre sessioni durante l'anno non hai a disposizione e da un altro punto di vista devi essere anche in grado di non ridurti all'ultimo momento, quindi non cadere nella falla psicologica di pensare che, siccome hai più tempo, hai a disposizione tutto quello che ha a voi in termini di tempisti, che devi invece andare subito e organizzarti. Quindi mi rendo conto che è importante in una sessione come quella estiva riuscire a non dedicarti troppo allo studio, perché per mantenere una buona qualità di studio devi essere in grado di dilazionare lo sforzo e quindi non essere sempre tutto il tempo, tutto l'anno al 100%. Ci sono dei periodi un po' più intensi, quelli quindi che sono a ridosso dell'esame, e quelli invece sono più leggeri e devono essere più leggeri, quindi devi sempre fare in modo di studiare con un'ottima qualità senza rinunciare mai a tutto quello che rappresenta la tua vita anche al di fuori dello studio universitario. Quindi non mi sento di darti degli consigli specifici su quali sono le tecniche di studio, perché sono esattamente le stesse. Ciò che cambia quindi è la visione che devi avere in termini di pianificazione per un periodo più lungo e di organizzazione di ciò che devi fare. Quindi questo è il giusto mindset che devi adottare per la sessione estiva, che si applica più o meno allo stesso modo anche alle altre sessioni. Quindi magari nel video di domani ti farò capire più nello specifico come devi organizzare, ad esempio se devi studiare tre o quattro materie in uno stesso periodo per poi darle durante la sessione estiva. Quindi intanto ti ringrazio per l'attenzione che mi hai dedicato, ti invito ad iscriverti al canale se non l'hai fatto già, in ogni caso per rimanere sempre aggiornata o aggiornato sui video che usciranno e anche per informarti sui più di 170-180 video, non ricordo al momento, che sono già presenti nel canale. A questo punto ti ringrazio nuovamente per l'attenzione, ti invito a scrivere nella sezione dei commenti se hai qualche dubbio, qualche domanda o vuoi un aiuto più specifico e quindi ti aspetto nel video che uscirà domani. Grazie. Grazie.